Roberto e Claudia, siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Claudia e Roberto, siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio va a radonarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla Chiesa il vostro consenso. Io, Roberto, accolgo te, Claudia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella saluta e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Claudia, accolgo te, Roberto, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e della malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Claudia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Roberto, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. E ora io vi dichiaro, davanti a questa comunità di parenti ed amici, marito e moglie. Grazie. 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 Grazie.